LMC, azienda leader nella produzione di mobili componibili, presenta il lavabo Zeus con doppia funzione. Il lavabo Zeus è un'innovazione tecnologica brevettata dalla LMC che consente l'utilizzo simultaneo del lavabo e del lavatoio grazie al sistema combinato. Lasciando l'asse di lavaggio chiusa sarà possibile utilizzare la vasca superiore come un classico lavabo da bagno, senza che l'acqua vada ad interferire nella vasca inferiore. È un lavabo di ultima generazione, realizzato in acri resin, con doppia vasca ed una comoda asse di lavaggio ribaltabile, che permetterà il doppio uso del lavabo con pochi e semplici gesti. Il lavabo Zeus è disponibile nelle misure 60x48 e 80x48 e LMC lo propone abbinato a diverse soluzioni da radio. Ulteriori informazioni su www.lmc.it